In questi giorni di emergenza, in tutto il mondo, le persone all'interno delle proprie mura domestiche stanno affrontando una sfida difficile contro un virus conosciuto. Anche negli ospedali, così come nelle case di riposo, in ATS e nelle aziende, ci sono persone che stanno lottando contro questa minaccia. Un folto gruppo di professionisti sanitari appartenenti alle aree della riabilitazione, della diagnostica, dell'assistenza e della prevenzione, stanno facendo del loro meglio per vincere questa sfida. Professionisti che guardano sempre avanti verso un obiettivo comune. Professionisti abituati a fare squadra per preservare il bene più prezioso, la salute. Professionisti che danno il massimo per aiutare chi soffre. Professionisti che scelgono di lottare e di farlo con coraggio e desizione. Professionisti che sorridono con gli occhi per offrire un po' di speranza e sollievo ai malati in questi giorni senza luce. Professionisti che incontrano ogni giorno infinite persone e ascoltano infinite storie. Professionisti che si aiutano l'un altro ogni giorno con la consapevolezza che alla fine ogni sfida vinta sarà una vittoria da festeggiare insieme. Professionisti che bastano sguardo per condividere il peso di giornate senza fini. Professionisti che non si tirano indietro neanche di fronte alla stanchezza e alla paura di non farcela. Professionisti che si trattano 우리�o immobilizzato di confesseri. Professionisti che anche se a distanza sono uniti nella medesima missione. Professionisti che hanno preso un impegno nei confronti delle persone e che intendono mantenerlo a tutti i costi. E insieme alla fine sconfiggeremo questo virus e torneremo a sorridere.